ed eccoci di nuovo qui su fumetterino neire e oggi vi vorrei parlare di una miniserie che ho finito di leggere nelle ultime settimane si tratta di princess mason di aoi ikebe aoi ikebe è un'autrice che ho scoperto ormai un po di tempo fa qualche annetto fa grazie a dinit che nella sua colonna showcase aveva trovato spazio anche per un volume unico dal titolo mamma proprio di aoi ikebe si trattava di una raccolta di storie brevi e devo dire che è stato uno dei migliori volumi unici che ho letto di quella collana è un ricordo indelebile nella mia memoria è veramente un volume splendido dolcissimo tenerissimo però devo dirvi anche che mi rendevo conto di quanto fosse anche inaccessibile per una grossa fetta del pubblico perché ovviamente è una raccolta di storie brevi perché poi riesco anche a facilmente immaginare delle persone che si annoiano durante la lettura di quel volume unico che è tutto basato su atmosfere molto ovattate ecco c'è poca azione poco movimento e quindi tutti questi fattori messi insieme non rendono il consiglio di quel volume unico così agevole così semplice però mi aveva letteralmente conquistato e infatti trovate una puntata del podcast dedicata proprio a quella lettura in realtà mamma è un volume unico che è arrivato un po dopo nella carriera di quest'autrice ma come al solito dinite ci aveva portato in italia un nuovo volto del manga contemporaneo cosa che purtroppo spesso non fanno le case editrici più famose più popolari più importanti perché come dico spesso diciamo si racchiudono si rinchiudono dentro quelle quel recinto molto stretto di autori già conosciuti già fermati oppure di clamorosi boom mediatici che arrivano dal sollevante. Aoi Kebe ha iniziato ad avere il suo successo grazie a Dopugawa edito in giappone da Akita Shoten ed è un volume unico che Bao Publishing ha deciso di portare in Italia proprio dopo la serie di cui vi voglio parlare oggi cioè Princess Mason e con Dopugawa Aoi Kebe vinse la diciottesima edizione del Japan Media Arts Festival nella divisione New Face Award. Nello stesso anno Princess Mason edito questa volta da Shogakukan iniziò la sua serializzazione e lo fece poi su una rivista Yakaraka Spirits che certamente non è il fiore all'occhiello della casa editrice di Shogakukan. È una rivista online su cui sono state pubblicate anche alcune altre serie che sono arrivate da noi come gli spin off di I Am A Hero e come anche Violent Section edito in Italia. Poi dopo questo parziale successo con Dopugawa e l'inizio della serializzazione di Princess Mason nel 2018 vinse anche la ventiduesima edizione al Japan Media Arts Festival nuovamente però nella divisione più importante cioè nel Grand Prize e lo vinse proprio con Mamma che come ho detto è stato edito in Italia da Dinita nella colonna Showcase. Da quel momento in poi la carriera di Aoi Kebe è andata avanti sono state edite in Giappone altre sue serie altri suoi volumi altre sue raccolte e da quello che si è capito online su Instagram Baopublishing ha tutta l'intenzione di proseguire con la pubblicazione delle opere di Aoi Kebe e io sinceramente non vedo l'ora a prescindere da quello che vi racconterò oggi su Princess Mason. Dopugawa invece è una delle prossime letture che farò. Vorrei iniziare questa puntata dedicata a Princess Mason proprio dall'incipit che potete trovare tranquillamente su internet. Sachi Numakoshi è una donna single che ama andare a zonzo guardando modellini di camere costantemente alla ricerca dell'appartamento dei suoi sogni. E finisce qui. Questo è l'incipit è veramente facilissimo anche se effettivamente a me non è mai capitato di leggere uno slice of life incentrato sulla ricerca di una casa o di un posto ideale in cui vivere. Sachi è questa ragazza molto giovane una giovanissima donna che per molti aspetti sembra ancora parecchio immatura ma che da tanto tempo vive da sola sa prendersi cura di se stessa sa portare avanti la sua vita con estrema tranquillità nonostante un passato anche difficile. La protagonista Sachi imposta veramente tutta la sua vita alla ricerca di quella casa perfetta forse anche alla ricerca di una felicità che fino ad oggi non è riuscita a trovare appieno. Subito si mostra al lettore forse l'elemento più irrealistico di tutto il racconto perché da quel punto in poi cioè da poco dopo l'incipit in realtà è stato tutto un susseguirsi di azioni di movimenti di cambiamenti forse anche minimali ma estremamente plausibili e l'elemento irrealistico di cui vi voglio parlare è proprio insito nell'incipit cioè la presenza di questi agenti immobiliari che si dedicano con costanza nel tentativo di soddisfare questa giovane ragazza alla ricerca della casa perfetta. La frequentazione tra Sachi e chi lavora nell'agenzia diventa così importante da creare anche dei legami di amicizia che vanno oltre alla ricerca della casa. Un elemento sicuramente non trascurabile di questi sei volumi è il romance quindi una vena sentimentale che è sempre presente sempre latente anche se molto flebile e che sembra da momento all'altro però poter scoppiare e questo elemento non è mai sessualizzato è sempre candido platonico e si accompagna perfettamente con il disegno dell'autrice che è così dolce tenero e anche con la caratterizzazione del suo personaggio principale di questa Sachi che per tanti altri aspetti sembra effettivamente una bambina ancora. E quasi sin da subito la serie si rivela quasi una raccolta di storie brevi anche se effettivamente non è esattamente così perché perché c'è un filo conduttore chiarissimo che è appunto la ricerca della casa e che ruota intorno a questa protagonista centrale ma poi troviamo in mezzo a questi sei volumi varie sfumature ci sono dei capitoli che sono incentrati su degli elementi completamente esterni al personaggio principale a Sachi personaggi che non rivedremo più e dove l'autrice tocca tutta una serie di argomenti che già vengono affrontati all'interno del filone principale. Poi ci sono altri capitoli che sono invece dedicati a tutti quei personaggi secondari che ruotano intorno alla protagonista. Ecco i capitoli che io considero proprio dei filler perché sono incentrati su personaggi che non rivedremo più personaggi estremamente marginali e che toccano argomenti che comunque già si intravedono nella storia principale ecco questi capitoli io non li ho amati particolarmente mi hanno appesantito un po' la lettura mentre gli altri quelli che diciamo approfondiscono alcuni personaggi che già impariamo a conoscere all'interno del filone principale ecco quelli sì che mi danno gusto perché mi donano anche tridimensionalità ai vari personaggi che ruotano intorno a Sachi. Questi capitoli invece slegati i filler portano al centro dell'attenzione tutti i temi che poi vanno a ripetersi appunto nei sei volumi e allo stesso tempo allontanano una evoluzione della trama un po' più sostenuta ecco e questo potrebbe secondo me essere anche il colpo di grazia per molti lettori che forse non riuscirebbero ad andare oltre questo ostacolo. Nel manga si parla di vecchiaia di una vecchiaia vissuta in solitudine magari anche da vedovi dopo aver cresciuto numerosi figli aver vissuto anche una vita coniugale ricca ecco ci si ritrova da soli e come ci si adatta a tale cambiamento? Si può essere felici anche da soli anche senza esserlo mai stati prima? E poi si parla anche della solitudine dei giovani solitudine parziale quando manca solamente un compagno di vita un legame sentimentale e poi c'è la solitudine totale quando oltre al legame sentimentale ti mancano anche altri legami affettivi quelli familiari quelli anche legati a un rapporto amichevole. Magari sei un giovane finalmente emancipato vai via di casa finisci in una megalopoli gigantesca come Tokyo che è appunto l'ambientazione della nostra storia e ti crei il tuo spazio nel mondo. Ecco quando questa cosa meravigliosa si trasforma poi in una zavorra perché ormai sei vecchio e quindi dovresti anche compiere dei passi ulteriori mettere su famiglia. Quando è che avviene questo cambiamento? Quando si passa dal godere di una situazione nuova di una emancipazione finalmente ottenuta a invece un momento in cui quell'emancipazione si trasforma in solitudine. E poi arriviamo a uno dei temi principali del manga. Nella stragrande maggioranza dei casi si parla di donne, spesso sole. Si parla della pressione che la società giapponese genera sul sesso femminile. Come può una ragazza giovane comprarsi una casa da sola? Come può una ragazza giovane non essere interessata alla ricerca spasmodica di un compagno di vita? Come può una ragazza giovane anche avere delle ambizioni lavorative senza dare quindi la priorità a creare una famiglia? E ancora un'altra cosa forse un po' più sottile che non avrei dato per scontato durante la lettura è questa. Allora la ricerca spasmodica di qualcosa per tanto tempo spesso si trasforma in una paura incredibile una volta che quel qualcosa è stato ottenuto. Io nella mia vita questo aspetto l'ho vissuto sulla mia pelle e quindi mi ci ritrovo tantissimo. Io magari sognavo per tanto tempo di ottenere qualcosa una volta che l'ho ottenuta non lo so forse sentivo il peso della responsabilità. Ecco una volta che raggiungi l'obiettivo un obiettivo che però implica anche per te uno sforzo continuo nel futuro forse questo peso fa paura anche se sei tu stesso ad aver cercato quell'obiettivo. Ecco questi sono tutti i temi o comunque la maggior parte dei temi che vengono trattati all'interno dei sei volumi di Princess Mason e devo dirvi che Aoi Kebe da una parte ce li mostra in modo lampante dall'altra però si astiene dal dare dei giudizi netti si astiene dall'esporsi più di tanto urlando a gran voce qual è la sua opinione. E questo forse un po' mi è mancato ma è anche vero che forse non si sarebbe sposato alla perfezione con il contenuto del racconto che non ha questo impatto forte non è un racconto così diretto ma è sempre molto gentile diciamo così. È difficile parlare di un'evoluzione dei personaggi perché effettivamente in questi sei volumi molto slice of life la loro vita cambia in modo impercettibile e in effetti è anche normale che sia così perché quando ci guardiamo indietro io nei miei trent'anni di vita quanti sono quei momenti che la vita te la cambiano in modo irreparabile in modo indelebile? Ecco non saranno tantissimi e quindi è difficile che all'interno di questi sei volumi che scorrono senza tanti flash forward o flashback accompagnano la vita della nostra protagonista in un range temporale abbastanza stretto ecco è difficile immaginare che avvengano così tanti cambiamenti all'interno di queste vite anche se mettiamo insieme più personaggi e quindi da una parte è anche difficile valutare l'evoluzione dei personaggi. Ce ne sono alcuni secondari dove io non ho proprio intravisto alcun miglioramento o alcun peggioramento o alcun cambiamento gli altri invece più vicini a saci effettivamente dei passi li fanno avviene qualcosa nella loro vita e anche quando non avviene comunque si vede che stanno vivendo un momento di riflessione un momento di passaggio dove devono ancora prendere delle decisioni ma sanno in un certo senso di doverle prendere e devono solamente capire che strada prendere. Ecco questo mi è sembrato abbastanza chiaro però è vero che non c'è stata un'evoluzione per tutti i personaggi che abbiamo visto all'interno di questo racconto tralasciando ovviamente quelli dei capitoli filler di cui parlavo all'inizio. È un peccato perché appunto questi altri personaggi rimangono delle macchiette abbastanza legate allo stile manga molto esagerato molto esasperato e che a me non piace più tanto e che secondo me anche male si accompagna al come scrive le sue storie a oikebe. Ecco mettendo insieme tutti questi aspetti mi rendo conto che il manga possa sembrare noioso troppo decompresso e quindi possa essere inaccessibile per tanti lettori. A me invece provoca in alcuni momenti una pace dei sensi infinita. Mi sento veramente tranquillo in pace con me stesso e con il mondo. Invece in altri capitoli mi trasmette enorme malinconia. Una cosa è certa che di nuovo esattamente come in mamma lo stile di a oikebe è se vogliamo molto votato alla contemplazione. È molto delicato molto dolce molto tenero e quindi è come se fosse un cuscino morbido. Uno di quei cuscini che puoi abbracciare che ti danno gusto nel farlo. Ecco poi ci sono tutta una serie di aspetti negativi che vanno al di là quindi del gusto personale che può portarti ad odiare ad annoiarti o apprezzare particolarmente questo genere di storie. Anche una persona come me anche un lettore come me che ha adorato mamma e che adora in generale gli slice of life e che sguazza veramente in queste tipologie di storie ecco anche io ho avuto delle difficoltà durante questa lettura che non sempre è riuscita a coinvolgermi soprattutto con le storie non inerenti al filone principale. Inoltre la ripetitività di alcuni temi trattati sia attraverso i filler sia attraverso la storia principale veramente mi appesantiva la lettura. Secondo me non c'era bisogno e inoltre sarebbe stato bello vedere lo stesso tema affrontato con due approcci diversi che portassero a conclusioni anche diverse a seconda del personaggio in gioco. E invece così non è stato. Quella sarebbe stata magari una chiave di lettura interessante ma non c'è stata. E inoltre il manga ne ha lasciato un enorme senso di insoddisfazione. E questo senso di insoddisfazione è dovuto forse a un quinto numero che finalmente aveva dato una chiave di lettura interessante, aveva fatto cambiare atteggiamento alla protagonista principale e che quindi mi lasciava prevedere un ultimo volume con il botto. Un ultimo volume con veramente un cambio di rotta, un climax importante. E invece non c'è stato. È stato molto più finale il quinto volume che il sesto. Nel sesto certamente riusciamo a intuire, a capire cos'è avvenuto nella vita di alcuni personaggi, riusciamo a capire cos'è avvenuto dopo, però è mancato tutto il resto. E mi aspettavo effettivamente qualcosa, un cambiamento che alla fine non c'è stato assolutamente. Prima di arrivare ad una piccolissima parte filler con una mia riflessione sul finale e sul ruolo della donna in questo racconto e della sua autonomia, voglio però arrivare ad una conclusione. Ecco, Aoi Kebe secondo me si è riconfermata un'autrice da tenere d'occhio, un'autrice che merita di essere pubblicata in Italia, un'autrice che io vedo effettivamente entrare bene all'interno dello stile about publishing e della colana Iken, che ha sicuramente diverse anime, ma dove effettivamente io vedo benissimo Aoi Kebe, ma sicuramente Mamma, edito da Dinit, mi era piaciuto molto di più, ma parecchio. E invece di Princess Mason avevo letto all'uscita i primi due volumi, mi avevano di nuovo affascinato enormemente, poi la lettura l'avevo messa in pausa, sono usciti tutti gli altri volumi che intanto avevo continuato a comprare, una volta uscito l'ultimo ho deciso di ricominciare da zero e leggere tutti e quanti i sei volumi. E dopo un inizio che di nuovo mi aveva conquistato appunto grazie allo stile dell'autrice, poi dopo la storia pian piano aveva perso mordente secondo me, aveva perso la mia attenzione, fino al quinto volume che invece era stato secondo me convincente al 100% e il finale invece è stato così così. Io quindi confermo l'idea iniziale, confermo il fatto che Aoi Kebe sia perfetta per about publishing e per la colana Iken, sia perfetta per arrivare in Italia, merita tutte le attenzioni del caso, ma è comunque un'autrice difficilmente consigliabile se non a chi ama particolarmente il genere slice of life di quelli molto vattati dove forse gli avvenimenti sono minimali all'interno della vita dei personaggi. Sono comunque contentissimo di aver recuperato questa serie, non la venderò, la terrò con me fin quando potrò e non vedo l'ora di leggere altro di questa autrice. Per tutti quelli che non vogliono sentire una mini riflessione sul finale, beh allora vi dico arrivederci alla prossima puntata del podcast e ci vediamo sempre qui su Fumetterino Nere. Mentre per gli altri adesso parlerò un attimo di quello che ho pensato una volta arrivato alla fine. Per sei volumi Aoi Kebe ci ha raccontato delle difficoltà che le donne giapponesi hanno di crearsi una vita indipendente, una vita slegata da ogni altro essere umano, da un uomo soprattutto, una vita da donna emancipata che riesce a vivere in autonomia all'interno di una megalopoli gigantesca come Tokyo. Donne che finalmente riescono ad affermarsi, donne che riescono a raggiungere i propri sogni e lo fanno appunto senza la figura di un uomo. Poi però arrivo alla fine, mi guardo indietro, penso ai personaggi principali della macro trama e trovo difficile digerire il fatto che nessuno dei personaggi femminili sia riuscita effettivamente ad affermarsi in tal senso. Si è riuscita a ritrovare la felicità, la gioia di vivere anche stando da sole. Nessuno ce l'ha fatta e questo è difficilmente digeribile per me perché vuol dire che tu autrice è come se stessi dando ragione in un qualche modo a chi pensa che una donna da sola non ce la possa fare. Tutti i personaggi arrivano alla fine con un senso di incompletezza e devono quindi o accettare questo senso di incompiutezza oppure accettare una parziale insoddisfazione stando da sole o ancora accettano invece di trovare finalmente un compagno di vita con cui stare e con cui sì magari raggiungere altri obiettivi nella propria vita. Un obiettivo familiare, un obiettivo economico e tutto il resto. Ecco mi è dispiaciuto, mi è dispiaciuto tantissimo. Questo dal mio punto di vista è una mancanza perché è come se stessi combattendo contro i pregiudizi per poi a un certo punto arrenderti senza tentare di ribaltare il tutto. Allora io non dico di creare un manga completamente realistico dove tutti questi personaggi femminili riescono ad ottenere i loro sogni, a realizzarli. Però magari almeno uno sì, diamo una gioia almeno a un personaggio. E invece la gioia la trovano di nuovo solamente attraverso gli uomini. E questo è stato un vero peccato secondo me. È difficile da digerire come scelta ma è assolutamente una scelta che può essere anche realistica se vogliamo. Purtroppo, purtroppo, potrebbe essere a maggior ragione una denuncia del fatto che una strada per delle donne singole in una megalopoli, in una determinata situazione familiare, economica, lavorativa, tutto quanto, non c'è un futuro per queste persone se non appunto scendendo a tutta una serie di compromessi che possono essere la felicità, la parziale soddisfazione oppure il doversi accompagnare a qualcuno. Ecco questa era la mia mini riflessione sul finale. È stata comunque una lettura che promuovo. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Probabilmente non in molti avranno letto questa serie. Però io sinceramente non vedo l'ora di leggere altro di Aoi Kebe e siamo arrivati quindi al finale di questa puntata nel mentre sto continuando a preparare una puntata del podcast molto più corposa e studiata però anche molto più impegnativa su un determinato autore un po' alternativo, un po' horror, che sta richiedendo effettivamente un enorme sforzo e quindi ci vorrà un po' di tempo prima di sistemare tutto quanto. Nel mente però avevo finito la lettura di Princess Mason e ci tenevo a raccontarvi qualcosa su questa serie e su questa autrice e quindi l'ho fatto un po' di getto. Tornerò spero presto sia su Spreaker sia su Spotify sia su YouTube eccetera eccetera. Ci vediamo sempre qui e ci sentiamo su Fumetteri Non Air. Alla prossima puntata!